Nata nel 1937, la Plotini è da sempre impegnata nella produzione e allestimento di stand e fiere. Impegnata nella produzione di materiali in legno e alluminio, l'azienda segue tutte le fasi dalla progettazione alla realizzazione del prodotto. L'azienda è oggi il primo produttore italiano di pedane per esposizioni. Abbiamo chiesto all'imprenditore come valuta la riforma del lavoro e quali le recadute sul suo settore. Penso che è una cosa tutta sbagliata che dovrebbe essere rifatta. E' solo teoria, ma noi non abbiamo bisogno di teorie, noi abbiamo bisogno di pratica. L'azienda deve mangiare, deve mangiare tutti i giorni, l'azienda deve non stare in piedi. Le aziende sono la ricchezza del paese, noi non abbiamo materia prima.